A partire dal 27-28 ottobre di quest'anno ci sono state delle forti piogge in Somalia, specificamente nella regione di una città che si chiama Beletuen. La città è stata completamente inondata e per questo sono stati più di 200.000 sfollati. Siamo resi conto che era necessario dare una risposta immediata, perché queste persone erano completamente senza nessun supporto. Quindi la prima fase dell'urgenza nei primi giorni è stata a fornire i generi prima necessità insieme all'acqua. In una seconda fase, nel nostro intervento, ci siamo focalizzati sui problemi di salute. Ci siamo resi conto che l'ospedale in cui le persone andavano era completamente sotto 50 cm d'acqua e solamente la sala operatoria funzionava. Quindi abbiamo organizzato quattro cliniche mobili nei settori dove c'erano le persone che erano più vulnerabili. Questa è stata la parte più difficile perché abbiamo dovuto scegliere dove andare. Non avevamo la possibilità di andare in tutti i campi di sfollati. In questo momento l'acqua comincia a scendere, però l'isplosione è molto critica. Nel futuro il più grosso problema sarà la necessità di continuare a fornire dell'acqua. Ci sono altre organizzazioni che cominciano ad arrivare, fortunatamente, ma vediamo nelle consultazioni che facciamo un aumento delle malattie legate alla diarrea, e quindi ci saranno forti possibilità che ci possano essere delle epidemie, nel breve termine, che sia la malaria o che sia il colera. E quindi sono queste le cose in cui stiamo facendo più attenzione, nella speranza che l'acqua scendendo sempre di più le persone possano ritornare nelle loro case.